Valore di un sorriso Donare un sorriso rende felice il cuore, arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma il suo ricordo dura a lungo. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, né così povero da non poterlo donare. Il sorriso crea gioia in famiglia, dal sostegno nel lavoro e dal segno tangibile d'amicizia. Un sorriso, da una sollieva che è stanco, rinnova il coraggio nelle prove e nella tristezza e medicina. E se poi incontri chi non te lo offre, sii generoso e porggigli il tuo. Nessuno ha così tanto bisogno di un sorriso, come colui che non sa darlo.